Silvi è un comune abruzzese sparso i cui abitanti sono detti silvaroli che fa parte della provincia di Teramo. Sede del comune è la frazione di Silvi Marina al confine con la provincia di Pescara. È situato ai piedi delle colline di città Sant'Angelo ed Atri ed è il comune più meridionale della costa teramana. La cittadina è definita la perla dell'Adriatico per un'unicità dei suoi 6 km di arenile ed è frequentata come stazione balneare, anzi molto frequentata, mentre il centro storico è situato sulle colline retrostanti a un'altitudine di 242 metri sul livello del mare a dominare tutta la costa circostante. Il comune nacque nel 1931 guadagnando l'autonomia da Atri e nei primi del Novecento pare fosse, insieme a Giulianova e Pescara, sede di una marineria tra le più importanti di Abruzzo. La città moderna si estende ai piedi del colle, lungo i 6-9 km di costa, dalla foce del torrente Cerrano a nord fino al torrente Piomba a sud. Sul nome di Silvi ci sono due opinioni che dividono gli storici. La prima vuole il nome derivare da Silve per l'abondanza dei boschi, la seconda invece dal nome del dio Silvano, antica divinità delle foreste. Comunque tutte e due fanno riferimento ai boschi circostanti. In età romana il comune era noto col nome prima di Matrinum e poi di Silve, mentre nel Medioevo venne chiamato Castelbelfiore o Castrum Silvi. Nata quindi come piccolo borgo collinare, e troppo piccola per avere una storia antica propria, le sorti di Silvi furono condivise tra il 600 e il 500 a.C. con la potente Atria Picena, l'Oderna Atri, la trimillenaria città d'arte che secondo alcuni eminenti storici diede perfino il nome al mare Adriatico e che fu conquistata nel 290 a.C. dai Romani. È nel periodo del predominio romano che il borgo di Silvi venne unito, presidiato e fortificato, diventando il Castrum Silve. La cittadina soffrì frequenti invasioni dei corsari turchi e saraceni, che sbarcavano di notte sulla costa e risalivano la collina, depredando il territorio e deportando molti abitanti, che finirono anche in schiavitù. Ma sarà proprio nel periodo medievale che il borgo inizierà a strutturarsi in una vera e propria cittadina. Il borgo era circondato da una cinta muraria, con tre torri di controllo di otto metri ciascuna, di diametro, tra le quali la torre Belfiore, così chiamata perché si trova di fronte al pentagonale Castel Belfiore, con una vista strategica sul mare e sui monti, a 360 gradi. Il 5 ottobre 1273, in seguito alla divisione del giustizierato d'Abruzzo sancita nel diploma di Alife, Silvi viene menzionata nel De Manium Andrie, quale terra di pertinenza dell'abbazia di San Giovanni in Venere. Nel 1393, re Ladislao d'Angio Durazzo vendette al duca Antonio Acquaviva per 35.000 ducati, le città di Atri e di Teramo, e tra queste naturalmente anche Silvi, che rientrava nelle competenze di Atri, con tutti i loro diritti e le loro pertinenze. In seguito all'istituzione poi del regno di Napoli di Giuseppe Bonaparte, fu abolita la feudalità e le universitas vennero trasformate in comuni. Nella riforma amministrativa Silvi fu quindi affrancata da Atri e divenne un comune autonomo. Sul finire del 1800 iniziò a svilupparsi sulla pianura costiera, che separa il colle di Silvi dal mare, il primo nucleo della cittadina marittima, che avrebbe conosciuto un sostenuto sviluppo demografico e turistico, veicolato anche dalla costruzione della ferrovia adriatica nel 1863. Da vedere a Silvi è la torre di Cerrano, che nacque nel 500 come fortezza di avvistamento contro le invasioni dei pirati turchi. La sua posizione, che è sul mare proprio, sulla spiaggia, segna il confine con Silvi Marina e proprio sotto la torre sorge il porto di Adria, di epoca non databile ma molto antica, che rappresentava un luogo di passaggio di importanza strategica. E da non perdere sono le bellissime spiagge sabbiose e con bassi fondali di Silvi Marina e l'area marina protetta di Torre del Cerrano. Tra le tradizioni più importanti di Silvi c'è quella del Luciancialone, nata nel 1500, che è la commemorazione della sconfitta degli invasori turchi da parte della comunità di Silvi. Si rifà ad una leggenda che racconta di un giovane di nome Leone che scese dalla collina con una fiaccola in mano, dirigendosi verso gli invasori. La fiaccola si dice che emanò una luce sempre più intensa, tanto che gli invasori credettero che un intero esercito fosse lì ad aspettarli e fuggirono. L'evento quindi viene festeggiato l'ultima domenica di maggio nella frazione di Silvi Paese, chiamata anche Belvedere di Silvi. Nella piazza principale del borgo viene issato un grosso cilindro di canne, alto fino a 10 metri, che viene bruciato e attorno al quale si festeggia fino a quando il rugo non cessa di ardere. Un'altra iniziativa si svolge dal primo venerdì della metà di luglio fino al martedì seguente, in cui viene organizzata la mostra delle arti e dei mestieri, quelli di una volta, durante la quale il borgo di Silvi Alta rivive l'antico passato. Attraverso le figure del marinaio, del falegname, del fabbro, della tessitrice e del contadino, le vie si animano con antiche botteghe per rievocare l'ambiente medievale e stand gastronomici dove è possibile degustare i prodotti locali. Nel corso delle serate vengono anche organizzati numerosi spettacoli ed eventi come la corsa degli asini, la corsa coi sacchi e il celebre ballo della pupa.